Un museo rinnovato, arricchito di un percorso sensoriale dedicato ai pianeti e di una visita guidata alla Borgata e al locale osservatorio astronomico. Succede a Borgata Celle di Bellino, in alta Valle Varaita. Il museo è quello del tempo e delle meridiane. A curarne la gestione insieme a Comune e Segnavia, l'associazione Astrofili Bisalta, che si avvale anche di giovanissimi studenti cunesi attraverso l'alternanza scuola-lavoro. Il museo resterà aperto dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 18 e sabato e domenica dalle 15 alle 19 sino al 27 agosto. Alternanza scuola-lavoro è un'opportunità che noi, in quanto gruppo Astrofili, offriamo ai ragazzi giovani. Quindi abbiamo creato uno spazio dedicato a loro per poter maturare quella che potrebbe essere una prossima passione ed eventualmente, nel caso volessero approfondire, riusciamo ad affiancare alcuni Astrofili che hanno qualche anno di esperienza in più. A Bellino che cosa state facendo? Abbiamo lasciato a questi ragazzi la possibilità di gestire autonomamente il Museo del Tempo e delle Meridiane e l'osservatorio astronomico. Hanno realizzato una sorta di percorso sensoriale attraverso il quale si può scoprire la bellezza dell'universo, ovviamente conoscere meglio quello che è il Sistema Solare e ovviamente conoscere le realtà che sono presenti sul territorio. Abbiamo creato, utilizzando vari materiali, un percorso che potesse essere usufruito sia da persone con disabilità visive che da persone normali e quindi abbiamo cercato di dare la sensazione al tocco di come potrebbe essere quel pianeta del Sistema Solare se uno potesse toccarlo effettivamente. Tutto questo è stato poi fatto anche come integrazione, come ampliamento di un percorso sempre per i ciechi che è stato fatto prima in collaborazione con l'Unione Ciechi Italiana. Come mai avete scelto di aderire a questo progetto? Che cos'è che ti sta regalando questa esperienza a te e agli altri amici? Possiamo dire che lo state facendo. Io sono già venuto qua l'anno scorso sempre a fare alternanza, non avevamo questo percorso sensoriale ma facevamo soltanto il museo. Il fatto di venire qua come alternanza scuola lavoro è un bel posto come prima cosa e comunque specialmente visto che per l'alternanza scuola lavoro gli studenti di liceo possono avere qualche difficoltà a trovare qualcosa di inerente al percorso di studi che stanno facendo l'attività di museo è qualcosa che può essere un percorso che uno può intraprendere dopo il liceo. Borgata Celle di Bellino, una borgata che è rinata dal 2007, quali sono i passi fatti? I passi fatti nel 2007 è uscito questo bando per la riqualificazione delle borgate alpine, noi abbiamo aderito su due borgate, Borgata Celle e Borgata Chiesa, combinazione anche perché le borgate hanno delle caratteristiche buone, siamo riusciti a entrare con tutte e due le borgate, abbiamo cercato di valorizzare sia come comune che come privato, come comune abbiamo avuto un finanziamento del 100%, abbiamo cercato di togliere quel brutto asfalto che c'era nelle borgate, interrato tutti i cavi e tutto e l'abbiamo fatta diventare come si vede adesso. Il Museo delle Meridiane è nato nel 2002 perché noi nel 1999 siamo partiti con un bando, abbiamo vinto un bando per la ristrutturazione delle meridiane, abbiamo realizzato, abbiamo fatto tutta la ristrutturazione e poi è nata, ci sono le meridiane e bisognerebbe anche avere un museo. Abbiamo di nuovo insistito con la Regione, la Regione ci ha finanziato questo museo che abbiamo realizzato anche lì al 100% e siamo orgogliosi di quello che c'era. Le meridiane cosa rappresentano per Bellino? Le meridiane per Bellino è una cosa principale perché le meridiane sono state realizzate da un bellinese, non è gente da via che è venuta a realizzare le meridiane ma è proprio uno del posto e venivano fatte non solo nelle borgate ma anche nelle baite perché d'estate si saliva alle baite con le mucche e tutto perciò dovevano avere le ore sia nelle borgate che nelle baite.